Ciao a tutti e bentornati sul canale del gruppo facebook un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri il gruppo che sta dalla parte del lettore noi siamo lettori curiosi esigenti e spesso fuori dal coro siamo convinti che un libro sia il miglior posto per incontrarsi e conoscersi e per questo vi invitiamo a scoprire o riscoprire insieme a noi titoli famosi classici talvolta di nicchia o semplicemente libri diversi dai best seller di moda oggi parleremo de la musica segreta della terra titolo originale the earth arms in b flat traduzione di federica merani e luisa piussi per pm il romanzo di esordio della scrittrice gallese marie stracham tranquilla quotidianità di un villaggio gallese degli anni 50 è sconvolta da un fatto di cronaca che oltre a mettere in subuglio la comunità stravolge pesantemente la vita della piccola guennie 12 anni e una testa piena di fantasticherie nelle quali si rifugia per non dover pensare a una madre che la rifiuta e un futuro senza grandi prospettive se osservato dal punto di vista di chi non ha nessuna voglia di crescere e diventare come le altre donne romanzo di formazione dalla trama esile ma appassionante la musica segreta della terra ha il suo punto di forza nei molti personaggi che lo popolano a cominciare dalla protagonista originale e mai patetico ritratto psicologico di una bambina colta nel cruciale momento del passaggio dall'infanzia all'adolescenza che trova nella sua estrema sensibilità che la rende stramba agli occhi dei meno attenti non un punto debole ma un appoggio per camminare su una strada lungo la quale si trova spesso da sola mancandole il sostegno della madre e della sorella maggiore da lei troppo distanti e divise da un segreto di famiglia che pesa come un macigno sulla serenità domestica che infatti va in frantumi alle prime avvisaglie di tempesta il romanzo affronta il delicato tema della crescita e dell'uscita dall'infanzia ma anche seppur in modo meno diretto quello della povertà e della condizione delle ragazze e dei più fragili nella retratezza del galles degli anni 50 del quale dà al lettore un ritratto vero e affatto edulcorato pur senza le sprezze della denuncia la prosa del romanzo è ricca e intensa rendendo la lettura appassionante consiglio questo libro a tutti gli amanti di storie di formazione ritengo possa essere una lettura adatta anche ai giovani lettori perché non è difficile identificarsi nella tenera e testar da protagonista se avete letto questo libro e volete discuterne con noi iscrivetevi al nostro gruppo facebook visitate il nostro sito o seguitici su instagram trovate i link nella descrizione sotto se vi è piaciuto il video non dimenticate di lasciare un like e di condividerlo con i vostri amici a presto e buone letture